Siamo con Andrea Tosi, il direttore di Sele Caravozio. Siamo con Andrea Tosi, il direttore di Sele Caravozio. Non eravamo mai riusciti a entrare come si deve come sponsor della squadra. Quindi quest'anno siamo proprio felici di aver avuto questa opportunità. I nuovi azzurri Baide, Romagna, Armeno e il giovane Beie sono qui anche perché vogliono vedere i nuovi modelli. Essendo nuovi della città, una nuova macchina per loro sarebbe l'ideale. Quale può consigliare ai giovani azzurri? Per loro sicuramente la Golf può essere la macchina ideale, visto che sono dei ragazzi giovani come quelle che abbiamo dato in uso appunto alla squadra. Sono la nuova Golf del Turbo Diesel nella versione Sport Edition, aggressiva e credo molto adatta a dei ragazzi come loro. Penso che possa essere una buona opportunità. Per i giovani forse il target è appunto più quello di una macchina sportiva bella come Grintosa, come la Golf, mentre anche l'Audi è un settore che va a prendere più, forse ad accogliere i dirigenti potrebbero essere della società. Sì, infatti noi la sponsorizzazione con la squadra l'abbiamo fatta col marchio Volkswagen, però rappresentiamo anche il marchio Audi che potrebbe essere comunque una buona alternativa anche per le famiglie, per la dirigenza. È comunque un marchio adatto anche ai giovani, abbiamo la 1, la 3 che può essere anche per i giovani, però credevamo che il marchio Volkswagen si avvicinasse di più ai valori della squadra di calcio. Novara che punta molto appunto sui giovani, li vuole far crescere, li vuole far maturare, li vuole esaltare, un po' come quello che appunto ha detto lei per quanto riguarda il marchio Audi e Volkswagen soprattutto. E quando c'è un binomio squadra di calcio-macchina, l'idea è quella di correre veloce, sì, con moderazione e macchina, sul campo magari anche senza moderazione. Sì, sicuramente. Hai detto bene l'abbinamento dei ragazzi e della gioventù, anche perché in effetti la concessionaria Serecar è proprio una concessionaria fatta da ragazzi, tutti i venditori, le impiegate, sono tutta gente giovane, io lo so, un pochino di meno, per cui crediamo che sia proprio il connubio ideale, ragazzi del calcio con dei ragazzi che lavorano e che stanno crescendo. Abbiamo diversi ragazzi che abbiamo preso direttamente dalle scuole, sempre qui del circondario di Novara e che stanno facendo un bel percorso di crescita all'interno dell'azienda. Allora vi aspettiamo sicuramente al Piola e vi aspettiamo già a partire da sabato, perché c'è una sfida importante contro la Sardinitana. Certamente, saremo sicuramente presenti, come lo siamo già stati nella prima di campionato, e aspettiamo tutti i nostri clienti e tutti i nostri dipendenti sono invitati a venire allo stadio e speriamo che questa sia una bellissima stagione insieme.